ok ragazzi test usb messo a caricare un piccolo power bank usb disabilitate infatti lui non carica appena io vado a cliccare su questo tasto ultimo boom si accendono queste verde si accende lui in verde led e lui è anche acceso se riclicco di nuovo boom lui si spegne le porte usb sono spente e test ac corrente alternata 220 volt ragazzi messa la presa nell'asciugo va abilitata perché non funziona sempre infatti guarda se io accendo il mio alimentatore da banco non funziona per abilitarla clic sul secondo bottoncino cioè questo qui appena io vado a cliccare ok accesa bene a 220 abili abilitata e nel frattempo stacco anche l'usb perché non mi serve ok risparmio batteria e ora vado ad accendere guarda abilitato il mio alimentatore è connesso mi raccomando ragazzi non superate il dato di targa come potenza di uscita si è vero 200 240 watt però mi raccomando non collegate carichi troppo grossi per disabilitare la 230 volt basta andare a cliccare nuovamente sul tastino il display ci indica ok questo è il display ok ci dice che la batteria con questo carico cioè con questo carico potrebbe durare 8 ore come potenza in uscita non mi da nulla perché ovviamente ragazzi questo è un a un bassissimo assorbimento ora vado a mettere qualcosa per poter andare a creare una sorta di assorbimento anche magari sulle usb ragazzi sento un rumore di sottofondo una ventola ragazzi si è attivata la ventola anche con un carico comunque molto basso c'è la ventola accesa il display mi indica sempre otto ore 33 per cento ragazzi connesso due batterie gopro in carica con usb c e l'altra gopro in carica mi segnala un assorbimento in uscita di 0 3 watt perciò ragazzi 3 watt come assorbimento in questo momento quattro ore è sceso il l'autonomia ora vado a cablare questo ok ac input in carica e mi dice che ho 35 watt in input e ragazzi sotto stress andiamo a mettere lui 105 watt come assorbimento massimo vediamo ragazzi cosa succede se esplode tutto 3 2 1 via ragazzi come avete visto dal video di test questo è il prodotto di oggi ragazzi che vi devo dire un prodotto davvero davvero carino interessante anche ben presentabile eccolo qui ottimo ragazzi come regalo super tecnologico e al powers ragazzi è una nuova casa produttrice che mira a fare concorrenza a uno dei più blasonati e conosciuti in questo momento generatori di energia portabile generatore solare portatile e sì ragazzi perché questo è solo il figlio piccolino che hanno nella loro azienda poi esistono anche tanti altri modelli molto più potenti ma andiamo a parlare di questo ragazzi questo è lo scatolo scatola bellissima con questo dietro abbiamo scritte tutte le caratteristiche che io ora vado a leggervi batteria agli ioni di lirio 41 mila e 600 milliampere ora 3,7 volt 154 watt ora peso approssimativo un chilo e 4 dimensioni 20 per 17 per 4 cm e 8 dc input perché giustamente ragazzi questo va alimentato meglio va ricaricato anche dalla rete tramite un caricabatterie dedicato già fornito nella confezione 110 220 volt 50 60 hertz può essere ricaricato anche da pannelli solari 18 volt 99 watt ragazzi il caricabatterie da rete che c'è dentro a in uscita corrente continua dc da 18 volt infatti il connettore di ricarica il foro nel corpo che ora ti farò vedere è uguale sia per la ricarica con pannello solare che per la ricarica con alimentatore di rete esterna perché perché giustamente l'alimentatore da rete esterna ragazzi poi cosa fa trasforma la 220 volt in dc trasformando in dc la porta a 19 volt circa qui è l'imballo ragazzi imballo interno questo è contro l'umidità foglietto di istruzioni piccolino andiamo a prendere il nostro gingillo tecnologico ragazzi qui è il cavo per la ricarica con il relativo trasformatore e questo è il piccolo gioiellino tecnologico eccolo qui ragazzi eccolo qui eccolo qui questo ragazzi sembra con questo fuoco in questo ragazzi con questa parte sembra un proiettore è in effetti alla forma di un proiettore guardalo 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 bello però carino e compatissimo ragazzi questo in un viaggio in una gira in montagna al mare puoi portarlo con te e utilizzare tutto ciò che ti metti a completa disposizione sia le porte usb che la nostra bellissima presa sugo e allora come già abbiamo visto qui sul lato abbiamo i due tasti uno serve per attivare disattivare le usb l'altro serve per disattivare ed attivare la sugo ok senza aver cliccato qui non si attivano e per la ricarica si può ricaricare sia da questo qui ok che il normale connettore di ricarica che anche dalla micro u qua dalla type c ok in base a cosa abbiamo a disposizione e qui ripeto puoi attaccare sia il pannello solare basta che rispetti il voltaggio e la potenza indicata dal costruttore che l'alimentatore in dotazione sopra bello guarda ricarica wireless e internamente anche le ventole come abbiamo visto dal video di intro funzionano dissipano la dissipano la temperatura perché ovviamente l'inverter interno riscalda pro e contro di questo gingillo ragazzi prove leggerissimo comodo veloce da utilizzare lo metti sopra non lo so un tavolo sopra una sedia sopra il cofono dell'auto sopra un sedile va più che bene guardalo leggerissimo un chilo e mezzo neanche ottimo come dimensione ragazzi e contro forse contro la tipologia di batteria installata dentro sono delle celle 186 50 barra 21 700 litio ioni ok io avrei preferito l'ifepio 4 però ragazzi considerando che dovevano andare a realizzare un prodotto piccolo e compatto più possibile leggero giustamente la scelta non poteva non ricadere sulle litio ioni perché come sappiamo hanno un peso potenza e capacità migliore delle l'ifepio 4 di altre chimiche però ragazzi positivo è che le litio ioni hanno tanta tanta potenza da vendere cioè tu qui hai davvero una banca di potere sotto in descrizione ragazzi vi lascio il video ve lo faccio ancora vedere bello è anche guarda ora c'è la usb attivata guarda qui c'è la lucetta verde che indica qui lucetta verde che indica eccolo qui che indica accensione abilitazione delle porte usb purtroppo ragazzi vedo speculare e non è semplice vado a disattivare da qui guarda boom disattivate le usb vado ad attivare la 230 volt cioè l'asciugo tengo premuto il led si accenderà rosso eccolo qui rosso ragazzi rosso perché perché mi indica che l'asciugo è abilitata cosa puoi alimentare con questo aggeggio tecnologico fighissimo qualsiasi cosa ragazzi qualsiasi cosa che funzioni in dc o in ac in ac basta mettere la presa un alimentatore di carichi tablet che ricarichi che cosa il computer portatile che alimenti uno speakers che alimenti una piccola tv ti alimenti una console ciò che vuoi potrai fare autonomia ragazzi a un'autonomia discreta considerando anche che la batteria che monta è una quattro uno mila e 600 posso dirvi che nel concreto dura davvero davvero parecchio io l'ho provata con un display e una console non sono arrivato a scaricarlo totalmente e in effetti qui ho ancora 32 per cento di batteria dopo i vari test fatti sia con usb che con il mouse per la carteggiatura ecco la carta vetrata quello che avete visto elettrico e ho provato ragazzi tutto andava alla grande per un paio d'ore sono riuscito ad alimentarmi solo con lui sotto ripeto troverai il link al prodotto complimenti al powers un bel prodotto è bello anche ragazzi come materiale a una bs bello poi ragazzi la ricarica wireless c'è ma lasciamo stare qui abbiamo usb c uscita 5 volt 3 ampere 9 volt 3 ampere 12 volt 3 ampere o ancora 15 volt 3 ampere o ancora 20 volt 3 ampere tutto questo in uscita dalla usb c perciò se vai ad acquistare un adattatore che entra usb c ed esce due poli potrai andare ad alimentare qualsiasi cosa tu voglia con una tensione massima di uscita 20 volt 3 ampere bene poi usb a 1 che sono quelli frontali abbiamo 5 volt 2.4 ampere usb a 1 o a 2 quelli frontali possono arrivare a massimo insieme insieme 3 ampere massimi perciò singolarmente 2.4 ampere queste frontali non sono veloci ma neanche lente insieme se vai a mettere due aggeggini sullo usb avrai massimo da tutte 2 3 ampere perciò un ampere e mezzo un ampere e mezzo poi wireless 5 watt max e infatti come dicevo è poca e poca la ricarica wireless è molto lenta un ampere massimo input charger qui 18 volt 2 ampere ripeto sia da pannello solare che da alimentatore esterno potrebbe anche essere utilizzato in auto per la ricarica in auto però a quel punto ti serve uno step up che ti salga la 12 volt della tua vettura in 18 volt con regolazione anche degli ampere ti lascio comunque tutto sotto in descrizione se vuoi acquistare anche questo accessorio non in corredo e fartelo da te potrai farlo con ciò che ti lascio sotto in descrizione ciao a tutti e al prossimo video